No, no, spero partiamo, spero partiamo, grazie Per favore tutti seduti davanti, grazie Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, in onda Buonasera, siamo a Maratea, terra meravigliosa in Basilicata Siamo qui per festeggiare il cinema, la ripartenza del cinema La settima arte che ha tantissime storie da raccontare insieme ai suoi personaggi Ebbè, vogliamo celebrare insieme questa festa perché sappiamo...